20 anni per un'azienda, per un mezzo di comunicazione che è solamente internet, è una cosa come aver passato un'era geologica e quindi sono cose da festeggiare. Questa comunità virtuale in qualche modo non è solo un'idea di un gruppo di giornalisti, è qualcosa che c'è, quello a me funziona. Il primo passaggio è una trasformazione, noi eravamo un giornale senza carta. La serata è stata impegnativa ma bella, è venuto fuori un affresco di che cosa è successo in questi 20 anni, ovviamente è un traguardo non da poco, anche perché sono i primi 20 anni della rete, almeno della rete in Italia, per cui ci sembrava importante provare a fare un racconto che fosse corale e collettivo, quindi che ci raccontasse un po' cosa era davvero successo.